In Puglia sfiora il 50% la percentuale di pratiche di finanziamento respinte, ma l'altro 50% spesso deve aspettare tempi biblici, carte su carte, nervose attese che certo non fanno bene all'economia delle piccole e medie imprese. Rilanciare l'economia agevolando l'accesso al credito, alle piccole e medie imprese, alle start-up e ai giovani. Questo l'obiettivo della convenzione esiglata tra Artigian Cassa e il Consorzio Interfidi di Taranto. Il sistema di valutazione delle richieste, scoring, ha spiegato Nicola Fino dell'area Puglia e Molise di Artigian Cassa, è stato studiato specificatamente per valorizzare le caratteristiche delle micro imprese, per velocizzare i tempi e snellire le pratiche di accesso e finanziamenti. In tempo reale la risposta, in tempo reale l'apertura del conto e la disponibilità del finanziamento, il tutto per via telematica. Il dottor Michele Dioguardi, presidente del Consorzio Interfidi di Taranto. Dopo una lunghissima attività di monitoraggio e di disamina, siamo riusciti con la chiusura del bilancio di quest'anno a entrare nell'ambito di un rating di sostenibilità. Io credo che questo sia uno strumento importantissimo che noi mettiamo al servizio dell'economia di questa città e sono convinto che soprattutto, come dire, l'attenzione che il direttore Fino ha voluto rivolgersi nei termini di consentirci una tariffa anche molto agevolativa ed una serie di ulteriori vantaggi che oltre alla garanzia, alla mera garanzia, viene costituito dalla possibilità di aprire un conto corrente a tassi agevolati presso la Banca Nazionale del Lavoro, di essere dotati di strumenti operativi molto efficaci e soprattutto a costi fortemente contenuti. Io spero di aver fatto un qualcosa di utile per questa città e, come dire, invito i commercianti, gli artigiani, perché il fatto di convenzione artigiancassa non significa che ci possano rivolgere solamente le imprese artigianali a questa iniziativa, a venire nei nostri uffici degli interfidi dove, con procedure particolarmente snelle, che sono quelle che il direttore Fino ci ha chiarito questa mattina, contiamo veramente di aiutare il sistema delle PMI territoriali.